La pagina triste è quella della vicenda Pantani, abbiamo in collegamento un ex compagno di squadra, uno degli storici compagni di squadra di Marco Pantani, Roberto Conti. Buonasera Roberto. Buonasera, ciao, un saluto a tutti voi. Ciao Roberto. E dicevamo, triste vicenda, è una ferita che viene costantemente riaperta quella di Marco Pantani, Roberto. Sì, non ci sono più parole ormai, perché è un caso stato gestito male all'inizio, secondo me, e di conseguenza si porta sempre avanti, però io spero che finisca presto per lasciare in pace questo ragazzo e che ci lascia nel cuore solo le belle cose che ci ha lasciato lui e basta. Eh sì, perché è un peccato, lui ci ha regalato emozioni straordinarie, non per il numero di vittorie ma per come andava a prendersi queste vittorie e per il personaggio che era, per la persona che era e quindi associarlo continuamente a commissione. Adesso si è, dicevamo, riaperta la ferita perché la commissione antimafia con il senatore Indrizzi sta facendo luce sul caso, su possibili contaminazioni. Sì, contaminazione da parte della mafia per i due fatti che poi hanno segnato pesantemente, il primo che poi ha segnato anche il capitolo finale di Marco Pantani. E voi compagni siete rimasti come gruppo molto uniti, no? Da quegli anni. Sì, no, diciamo così che quel mercatone lì, quasi tutti i ragazzi siamo uniti, ecco. Ogni tanto ci sentiamo, abbiamo anche una chat dove ci siamo alcuni. Poi, per esempio, l'altra sera era una festa dove c'era Marcello Siponi. Gli anni passano, però alcune cose si dimenticano, dopo uno se la ricorda, ce la racconta all'altro, viene fuori l'emozione, poi dopo ci scappa anche una lacrima, ecco. E tra l'altro viene molto spesso accomunato a Maradona, a Pantani, no? Per l'emozione che ha fatto vivere, anche per la fine che gli ha accomunati. C'era stato questo incontro a Cuba, in un campo da golf, dove casualmente si erano incontrati. Voi eravate stati vicini a Marco, anche nel periodo in cui magari le luci e i riflettori si erano spente su di lui. Voi avete cercato sempre di stargli vicino. Ma il 2003, che è stato il suo ultimo anno, io, Fabiano, Clavero, che era, diciamo così, il vecchio gruppo che era rimasto dalla Mercatone 1, abbiamo fatto gli ultimi sei mesi della sua attività, abbiamo vissuto con lui, dietro i riflettori. Però è stata una lotta. Aiutare un ragazzo con quella depressione che aveva lì era difficilissimo. Ecco, c'è ancora tanta amarezza perché di non poterlo avere risolto il problema. Ecco, è questa la cosa triste. Tutte le volte che sento parlare di queste cose qui mi viene una malinconia, una rabbia di quello che ho sbagliato, penso. Perché ti viene da dire che hai sbagliato. Perché quando non ci riesci ti viene da dire che hai sbagliato qualcosa. Però io credo che lo sbaglio sia stato fatto a Madonna e Campiglio. Bravissimo. È lì che è stato fatto il grande errore. Esatto, quando è stato estromesso dal giro, che secondo me non doveva essere estromesso per quello che era accaduto. Tu, Roberto, che idea ti sei fatto di Campiglio? Quando gli trovarono l'ematocrito fuori norma, venne escluso, misurato con questa macchinetta, che non so fino a che punto era attendibile, a tal punto che, eravamo nel 99, nel 2000, per poter valutare un corridore, tenevano conto dei valori dell'ematocrito e dell'emoglobina. L'avessero fatto a Campiglio, Pantani sarebbe stato nella norma. Ma lo fecero nel 2000 perché avevano capito che non era attendibile questa macchinetta Coulthard per trovare l'ematocrito. Ma tu, Roberto, che idea ti sei fatto? No, mi sono fatto l'idea che a volte quando si fanno delle regole non vengono guardate le conseguenze di questa regola e la conseguenza è che fu stromesso uno che stava vincendo il Giro d'Italia e Marco lì dopo ha lottato per questa cosa qui e di fatti, come hai detto giustamente tu, l'anno dopo hanno cambiato la regola e di fatti lui l'anno dopo dice sul giornale, testuali parole perché Marco non aveva peli sulla lingua, quello che pensava lo diceva, e dice, c'è gente che sta vincendo il Giro d'Italia che ha dei valori più alti che i miei, però ha cambiato la regola. Questa è la tristezza. E lì venne presa una decisione che non si capì, che ha cambiato anche il ciclismo italiano, ha rovinato la vita di Marco Pantani, ma ha cambiato il ciclismo italiano radicalmente quel giorno. Ma certamente, no, ma non... È stata presa con troppa velocità. Ci sono anche le testimonianze di chi è stato sottoposto allo stesso test quel giorno, ovvero i primi della classifica generale, che dicono, non risultano, non combaciano i test nostri con i test fatti, l'esito della macchinetta, c'è la discrepanza di due punti. Di due punti. Chi aveva 49,9 si è salvato per il rotto della cuffia, in realtà aveva 47,9. Quindi anche Pantani, cioè era una macchinetta, era un test che facevano, ma non doveva essere già così, diciamo, decisivo. Non potevi estromettere un corridore dal Giro d'Italia per questa cosa. Dovevi valutare l'ematocrito e l'emoglobina e compararli, come è stato fatto l'anno dopo. Ma intanto Pantani ha perso il giro, ma al di là di perdere il giro, alla fine poi ha perso la vita. Abbiamo perso una persona e voi un caro amico. E tra l'altro l'eccezionalità di Marco Pantani, la stava citando proprio Roberto, il fatto che lui era senza filtri. E quindi era per questo molto amato dalla gente, perché era senza filtri, andava, diceva quello che pensava ed essendo molto intelligente, a volte diceva cose molto intelligenti. E quello, perché guardando il palmarès di Pantani, uno si potrebbe stupire perché Pantani ancora adesso è il corridore italiano più presente negli striscioni al Giro d'Italia. E per questo motivo, credo, Roberto, era unico. Sì, era unico e poi faceva queste azioni che davano questa emozione. Io sinceramente oggi ogni tanto guardo questi video, mi emoziono anch'io, perché essendo in corso non vedevo quello che facevo, lo vedevo partire e basta. Però vi faceva penare, perché mi dice Stefano che lui correva in fondo e poi a un certo punto voi dovevate aprire come Mosè ha fatto con le acque il gruppo per andare in testa. Non era semplice ogni volta. Prendevate anche delle belle parole, mi diceva Stefano Garzelli. Sì, però io mi divertivo a correre di fianco a lui. Era bello, perché lo vedevi che alla mattina la tattica non esisteva. Lui la creava in corsa. E lo vedevi, ti veniva lì a parlare, e diceva adesso facciamo così e ti prendeva un po' di sorpresa anche. L'istinto, lui era l'istinto. Tutto istinto, tutto istinto, sì. E il contrario del ciclismo moderno. Questo istinto che aveva sicuramente ha fatto innamorare la gente, perché non era programmazione, diciamo così. Lui era istinto. Stiamo vedendo quando a Europa, dopo l'incidente meccanico, rimontò 49 corridori per andare a vincere la tappa. E' una delle sue imprese più belle, quella di Marco. Ma qui lui pensava che aveva ancora dei corridori davanti. Non ha alzato le braccia, perché pensava che ci fosse ancora qualcuno. Lo voleva fare la figura del Pirla. No, personaggio unico. Quanta gente ha avvicinato il ciclismo e quanta gente non lo segue più, perché non c'è più lui, purtroppo. Bellissime anche le sue dichiarazioni nel 1998, dopo che lui ha già la maglia gialla e c'è la risposta di Ulrich, il tedesco, che prova a riprendersi con la maglia gialla, ma è impossibile. E alla fine fanno la volata e vince Ulrich. Probabilmente avrebbe potuto vincere Pantani. Ma lui dice, oggi meritava la vittoria Ulrich per come si è battuto fino alla fine con me. Era unico in quello. Era veramente unico. E vedete l'arrivo proprio di Europa, dove non alza le braccia, perché non sapeva se davanti c'era ancora qualcuno dopo questa sua rimonta folle. 49 corridori rimontati su questa salita dopo che si è dovuto fermare per un salto di catena. E ricordiamo che il record televisivo legato al ciclismo appartiene a Marco Pantani, 2000, Tour de France, quando si interrompe il TG1 perché lui è attaccato da lontano. Certamente. E quando vinse a Courchevel, la tappa staccando Armstrong in salita e c'erano sugli 8 milioni di telespettatori, record in Italia e in Francia. Anche la TV francese ha ancora record per questa tappa. Era domenica a luglio e fu qualcosa di spettacolare. Qui lo vediamo invece sul MoVantour. Sì, qua l'aveva fatto arrabbiare. Si era arrabbiato con Armstrong per le dichiarazioni sul MoVantour. Tu non c'eri a quel Tour, credo, oppure sì? No, io correvo alla Caldirola. Ero lì al Tour anch'io e mi ricordo quella mattina lì che attaccò la tappa che si chiamava Amorzin, giusto, Beppe? Sì, Amorzin quando attacco da lontano. Sì, bravo. Eravamo la mattina alla partenza, sai, partivano sempre dietro, mi affianca e me lo disse in dialetto romagnolo. Mi disse, oggi allacci ti cinturini che attacco pronti via. Gli ho detto, hai guardato la tappa? Sì, sì, o vado a casa io o vado a casa l'americano. Bellissimo. Grande, grande Marco. Grazie per questa testimonianza, Roberto Conti. Grazie. Ti faccio gli auguri di buone feste a tutti. Anche noi ci uniamo a farti gli auguri e bellissime testimonianze di una persona storica, di un gruppo, bellissimo gruppo. Buonasera, Roberto. Un gruppo splendido, unito, molto legati anche al territorio, quasi tutti i romagnoli. E io insisto, continuo a dire, Marco Pantani, lasciamolo riposare in pace. E anche io sono l'idea. Per quello che ha dato, per quello che è stato, un uomo fragile nella vita di tutti i giorni, un campione straordinario, ma oggi deve riposare in pace. Basta con inchieste e tutto il resto. Vedi, i suoi più cari amici, le persone più legate, chiedono proprio il silenzio e la pace per questo straordinario campione.